Ha-ha! La vuoi? Vieni a prenderla! Finalmente! Oh! Ah! La pergamena è mia! Cosa? Ah! Whoa! Lampo! Oh! Non, non, non! La percamena gli ha dato potere! No! Finalmente! Ah, sì! Il potere della percamena del drago è mio! Non c'è niente! Tranquillo, neanche io ce l'ho arrivato subito! Cosa? Non esiste un ingrediente segreto! Sei solo tu! Smettila! No! No! Me la faccio giù! No! No dai! No! 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 Ma! Ha! 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 Oh Non puoi sconfiggermi Tu Sei solo un grosso Lardoso Panda Non sono un grosso lardoso panda Sono il grosso lardoso panda La presa del dito Buxi Oh, conosci questa presa? Stai bleffando, stai bleffando Shifu non te l'ha insegnata? No L'ho immaginata Skadush Stai 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 Tagliate! Dov'è il guerriero dragone? Che ne sai che non è davanti ai tuoi occhi. Mi prendi per uno sciocco? Lo so che non sei il guerriero dragone. Nessuno di voi lo è. Ho sentito che è caduto dal cielo su una palla di fuoco. Che è un guerriero diverso da qualunque cosa il mondo abbia mai visto. Boh? Allora è così che si chiama. Boh. Finalmente, un degno avversario. Il nostro scontro sarà leggendario! Ci pensiamo noi! Aiutatela! Oh, cimbia! Che mi è venuto in mente? Mantide! Ora! Oh, cimbia! Shifu vi ha insegnato bene Ma non vi ha insegnato tutto Grazie per la visione